Ci siamo, tutto pronto? Partiti! Primi metri di gara, tiene la corda, Great Ambition, quindi Monicelli con allargo Aflido, allargo c'è anche Uaccio, quindi Golden Oasis, Domingo, Valsali, Women in Rose, Star Collision e Ciao Praia. All'attacco della prima piegata con il cap verde, mantiene la leadership, Great Ambition, all'esterno si oppone il numero 6 di Uaccio, che al momento si adegua. In terza posizione troviamo Monicelli con il cap rosso, quindi per via interna il fucse nero di Domingo, per via esterna la ciubalilla di Aflido nel cuore del gruppo, in giubba nera con la buccialla troviamo il numero 4 di Golden Oasis, per via interna e galoppa, Star Collision, quindi in ottava posizione troviamo il numero 9 di Valsali, Women in Rose, in penultima posizione, all'estrema attesa il numero 2 di Ciao Praia, passaggio davanti le tribune, passaggio davanti le tribune, ma che non varia, con Great Ambition, sempre la prima danza, il ritmo molto sostenuto, con all'esterno troviamo... Molte posizioni, Star Collision, che si porta in terza posizione, quindi Monicelli che galoppa per via larghe, Domingo nel cuore del gruppo, e poi in sesta posizione troviamo per via larghe Golden Oasis e Women in Rose, il gruppo molto compatto, quando ha i 500 meri conclusivi, Star Collision si presenta predominante all'esterno di Great Ambition, in terza corsia troviamo Monicelli per via interna, Domingo, quindi Golden Oasis, sull'ultima curva, Star Collision va per attaccare Great Ambition, il momento tiene botta, quindi si presenta Domingo con Cristiano che ancora ha iniziato a muovere in questo momento, e Monicelli sull'ultima curva, Great Ambition, tiene botta Star Collision e sta scappando sull'ultimo fanno, che si è rotta lungo lo steccato, Great Ambition, all'esterno troviamo il numero 8 di Star Collision, la prima di via larghe, Domingo che cerca l'incapata, Domingo che viene a velocità doppia nei confronti di Star Collision, Domingo che viene a vincere nei confronti del numero 8 di Star Collision per la terza e del numero 5 di Great Ambition, si riscatta dopo 7 giorni, Domingo viene a vincere nei confronti del numero 8 di Star Collision e del numero 5 di Great Ambition, andiamo a rivedere gli ultimi metri di gara.